La mia vicinanza, la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale che io rappresento come delegato allo sport. Mercoledì scorso siamo stati in radio, abbiamo ricordato sto ragazzo e ovviamente a tutti fa male ancora questa prematura scomparsa e fa piacere che tutte le società col tuo operato e con quello da parte di tutti gli addetti al lavoro lo ricordino vivamente. Oggi ci troviamo qui a Curti, speriamo che sia una partita all'insegna della correttezza e della tranquillità proprio in memoria di questo ragazzo.